E' scesa sulle rotaie del binario 2 della stazione di Fano e si è messa una mano davanti agli occhi forse per non vedere ciò che di lì a qualche istante l'avrebbe travolta e posto fine alla sua esistenza. Sono stati questi gli ultimi istanti di vita di Laura Spallacci, 41 anni compiuti da poco, nata a Fano ma residente a Tavuglia, riferiti dai presenti alla scena questa mattina poco dopo le 12 quando ha deciso di pararsi davanti al treno merci 58302 in transito nella stazione di Fano proveniente da Foggia e diretto a Torino. Una scena alla quale hanno assistito attoniti ed impotenti in molti che erano presenti sia sul binario 2 che sul binario 1 dall'altra parte e che hanno notato questa donna al limite della banchina oltre la riga gialla di sicurezza con i piedi proprio sul bordo del marciapiede e che all'arrivo del merci non ha esitato a fare un passo in avanti. Laura è morta sul colpo ed immediato è stato l'arresto del convoglio da parte del macchinista. L'allarme è stato dato subito anche dal personale presente che ha avvertito il 118 e le forze di polizia che in brevissimo tempo sono arrivate in stazione. Oltre ad loro anche una squadra dei vigili del fuoco di Fano e del comando provinciale di Pesaro, anche due mezzi del 118, i carabinieri del nucleo radiomobile di Fano e gli agenti del commissariato assieme ai colleghi della Polferd che hanno subito perimetrato l'area e arrestato il traffico ferroviario in transito. All'identità della donna si è risaliti attraverso i documenti ritrovati nella borsa lasciata a terra sulla banchina. Non si conoscono le motivazioni del gesto che sembrerebbe essere volontario anche se non sono stati ritrovati scritti esplicativi da parte della vittima. Inoltre gli inquirenti hanno ritrovato sempre all'interno della borsa alcuni farmaci per curare i disturbi dell'umore probabilmente assunti dalla donna. Notevoli ripercussioni al traffico ferroviario sulla linea Pescara-Rimini con ritardi e cancellazioni che si sono accumulati nelle ore successive alla tragedia fino a quando non è stato possibile riattivare il transito sui binari 3 e 4 della stazione di Fano ed è stata attivata a partire dalle 13 e 15 la circolazione alternata tra Fano e Pesero causando anche però ritardi di oltre 60 minuti. Traffico ferroviario poi tornato regolare a partire dalle 16 e 30.